Voi siete completamente pazzi, cioè io faccio una serie di Minecraft, la chiamo l'incoerente e mi lasciate 65.000 mi piace Io vi adoro, cioè vi amo veramente con tutto il cuore Tanto lo so che molto probabilmente vi perderò per strada perché non arriverete mai in fondo a questa serie Sempre che ci sia una fine di questa serie, magari potrebbe anche non esserci Una cosa è certa, camicia rossa e andiamo a comandare con il secondo appuntamento Mi raccomando, commentate, iscrivetevi e campanellina Buona visione Bene ragazzi, quest'app mi è bentornati nel secondo appuntamento della nuova serie vanilla del mio canale chiamata l'incoerente Mi sono portato leggermente avanti, ho creato una piattaforma enorme dove passare, ho raccolto un bordello di legna e ho creato una mini piantagione Perché purtroppo il cibo di capra è finito Abbiamo ancora delle cooked pork chop ma stanno esaurendosi piano piano Quindi dobbiamo assolutamente farmare il più possibile Io adoro la carne di maiale ed è per questo che in questo appuntamento cercheremo di raccogliere tanti semi per creare una farm di polli Ho notato che qua giù in fondo ci sono sti pollastri che girovagano in mezzo alla giungla E prima che facciano una brutta fine ho detto vabbè salviamoli Più che altro sono stato un po' egoista perché ho intenzione di salvare semplicemente me stesso Ho scelto un'isola deserta e ho ucciso due pecore Non c'è più nessuno Ma un personaggio solitario e autoritario come il sottoscritto è quello che cerca Un po' di sana tranquillità Va diventando notte che bello Andiamo a dormire va così diventa giorno e possiamo stare più tranquilli Io sto cercando di tappezzare il più possibile l'isola di torce Così che nessuno possa romperci gli zebedei Per la cronaca per tutti coloro che avessero scritto nei commenti Step perché non hai trovato il tesoro nel primo episodio? Perché non l'ho trovato manco adesso cioè ho continuato a scavare a scavare a scavare Non c'è Io metto la mappa in mano guardo sono sulla X e il tesoro non c'è Non avendo un query come in minecraft moddato devo farlo a mano E sinceramente non ho voglia di cercare un tesoro che sarà anche stream in sito probabilmente Alcuni hanno scritto arriverà sicuramente prima di trovare la lava Ho capito ma quando è la lava? Tra quanti milioni di scavi? Attenzione però in compenso abbiamo trovato del ferro Cioè ho scavato un casino in miniera non ho trovato niente Scavo qui e trovo un pezzo di ferro Ottimo Riposiamoci così diventa giorno e siamo tranquilli Vediamo un po' il nostro ambaradana e il nostro armadietto qui Noi purtroppo non abbiamo neanche dei semini per prendere i polli Perché in realtà le ho utilizzate lì per la piantagione Io direi di approfittarne nel caso in cui decidessimo davvero di prendere i polli E li mettiamo proprio qua Piazziamo bellini qua sotto Sopra ci mettiamo anche una parte vetrata volendo Del vetro? No ma lo posso fare Abbiamo bisogno di altre torce In realtà il resto di legno è in abbondanza Ma non voglio costruire voglio esplorare Voglia di andare a giro di vedere il mondo Bohia 40 pezzi di carbone questa è tanta roba Secondo me questo buco qua basta e avanza per i polli Anche perché come vedete ci stiamo arrangiando come è possibile Non facciamo le cose strafighe Vogliamo solo sopravvivere Con l'unico obiettivo di cercare di non morire Si può fare step? Assolutamente Quotato a uno e moriremo nei prossimi episodi eh Ma proprio a uno Ricordiamoci che se chiudiamo subito poi è un casino fare entrare i polli Quindi prima lasciamo aperto Buttiamo dentro i polli Dopodiché chiudiamo E li faccio sempre rigorosamente vicino a casa Così fanno casino e sono felice Senti vogliamo provare a spaccare quest'uovo Magari esce un pulcino Come non detto Grazie gioco Sempre gentilissimo nei miei confronti Avete detto che i tesori che ci sono nelle scialuppe Quelle lì sott'acqua non sono neanche chissà cosa Quindi faremo finta di non averle viste Io ho sentito un rumore strano Mi sembravano zombie ma probabilmente mi sbagli No mi sbagliavo un corno Eccolo qua il nostro amico Speravo in un dungeon sotterraneo Ma speriamo fin troppo probabilmente Allora ragazzi Il piano di oggi è questo Dobbiamo colonizzare quest'isola deserta Ok Dove diventare un pollemonio E non sarebbe altro che un pandemonio fatto di polli Pensate di poterlo fare Questo lo prendo io intanto per iniziare Che l'uovo può sempre far comodo Mi basta portarvi là sotto ed è fatta Sono una persona molto paziente Io sbrigatevi Dai che devo andare Non che debba andare di preciso in qualche posto particolare Però devo andare Voglio esplorare il più possibile Voglio vedere se c'è qualcos'altro di utile in quest'isola Anche perché non so per quanto tempo staremo qua Quindi cerchiamo di sfruttare questo tempo il più possibile Vieni vieni bellino Vieni a casa qua da step Bravo Scendi di sotto E uno è andato Ora lui perché ha perso interesse Qual è il tuo problema Non avevi mai visto l'orizzonte Non avevi mai visto una casa di legno Su Ti sto portando a fare miglior vita Te lo posso garantire Vieni qua Bravissimo Scendi di sotto Alla grande È stata una mossa geniale Così è molto più carino Ed evitiamo magari in futuro Nel caso in cui servissero altri polli Di dover spaccare il vetro Scanciami un pulcino A volte funziona però Molto bene Salve signor pollo Un pollo qua Un pollo là Fate all'amore Non si sa come due polli Possano fare un pulcino Ma non importa Non siamo nessuno per dirlo Chi è Darwin Eh? Chi è? Molto bene Abbiamo anche tre ossa Le sfruttiamo immediatamente Per produrre grano Ci piace tanto il grano Quindi spacca Un giorno saremo strapieni di grano Avremmo fatto così Tanta grana Che ci scambieranno per Surry Eh scusate Il signor 5 grana Se non scambiano lui per la grana Vabbè La smetto La serie si chiama L'incoerente Non il deficiente Siamo d'accordo? Non siamo d'accordo Il primo panino della serie Fatto Il primo panino della serie Mangiato Olè Adesso scendiamo Un attimo sotto terra E facciamo una bella scorpacciata di materiali Che sia carbone Ferro Diamante Magari Quello sarebbe il vero tesoro Altro che la cesta dei pirati A caso con il room Sarebbe veramente il colmo Dei colmi Dei colmi Scendere qua sotto E trovarsi un dungeon Dell'end Giuro che non mi stupirei Più di tanto Perché nella mia lunga Carriera di Minecraft Sono successe davvero Tante cose Probabilmente molte le ho pure Dimenticate Inizia già a essere noioso Spaccare con il piccone Questo video di pirata normale Quindi sapete che vi dico Siamo a metà percorso Che spara un bel crafting table Con una bella fornace Ma fai anche due Ma sì Due fornaci Andranno benissimo Mi piazzi Mezzo iron di qua E mezzo iron di là Così facciamo veloce Ci creiamo il piccone E stiamo tranquilli L'obiettivo attuale Non è solo esplorazione Ma saccheggio più totale Devo trovare di tutto e di più Ovviamente nel più breve tempo possibile Quindi sbrighiamoci Abbiamo due picconi Un po' di cibo Quanti lingotti ancora di iron Non tantissimi Però la spada è necessaria E vi dirò di più Ma già che ci siamo Fai anche la pala Chi si è visto Si è visto Vai così E dopo se ci prende bene Torniamo su e troviamo anche il tesoro Livello 11 Ok ci siamo Questo dovrebbe essere Il famigerato livello Dei diamanti Ok Intanto abbiamo trovato Della redstone Che fa comodo Da esperienza Così arriviamo al prima possibile A livello 30 Ci facciamo i super incantesimoni Le pozioni che non ho mai creato Nella mia vita Inizieremo a sfornarle Come se non ci fosse un domani Perfetto Qui possiamo anche chiudere volendo Io in Giappone Ho preso una clessidra Adesso prendo la clessidra La giro E nel tempo in cui Fa un giro completo Di scambio di sabbia Devo trovare dei diamanti Altrimenti siamo fregati La tengo qua davanti Giuro che non sto barando Quindi se li troviamo veramente Vola tutto Dai su Fai il bravo Che la clessidra Sta andando sempre più giù Ripensandoci Ho chiamato questa serie L'incoerente Quindi posso sfruttare Questa cosa a mio favore Il più possibile Giusto? Ho detto che finché La clessidra non avrebbe fatto Il cambio completo Io avrei avuto tempo Per trovare dei diamanti Ok Va bene Allora ragazzi Abbiamo ancora un po' di tempo Però no ragazzi Qui non torna Questa non è incoerenza Questa è coerenza Allo stato ingannativo Sto iniziando probabilmente A dire cose a vanvera Probabilmente sì Comunque ho trovato Un giacimento di carbone Che non è male Il tempo è denaro Creiamocene ancora un po' Voglio trovare i diamanti Ok Per me è una questione Di principio morale Il tempo ci sta palesemente Sfuggendo di mano Non credete? Prendiamolo un altro po' Ho sentito della lava Alla mia destra Siamo così vicini Ai diamanti Che me li sento Proprio sono qua Stiamo per sfondare In un giacimento Di diamanti Che ci renderà Ricchi sfondati Dai che la sento Non può essere sopra di me Posso essere così tanto sfortunato? Un minimo di culo Dobbiamo andare a sinistra Cambio rotta Guarda è sotto allora Sento anche l'acqua raga Sento tutto Sta scadendo la clessitra Ho ripreso al volo Al volo Giuro Di solito In questi punti qua Dei diamanti Vengono fuori Vediamo intanto Di bloccare quest'acqua Perché mi sta infastidendo Ecco cosa avrei dovuto fare Un secchio Sono completamente Dimenticato Dell'utilità Dei secchi In minecraft Non gioco da troppo tempo Probabilmente Il tempo è denaro Non è che sto imbrogliando Sono loro che imbrogliano Mi raga Non esce un diamante Ma sul serio E dai Mi prendete in giro Me ne servono solamente tre Faccio un piccone Faccio un portale Siamo tutti contenti Io voglio andare all'inferno È il posto che mi merito Per questa serie Però sarebbe figo Comunque Una serie interamente Dedicata al mondo Del nether Io speravo nei diamanti Ci avevo quasi creduto E invece niente Ma io cosa me ne faccio Della redstone Secondo voi Vi fai O uno che fa i circuiti Assolutamente no Non so neanche chiudere La porta di casa Col circuito No diamonds For step Non è mai successo Che io esco Per cercare i diamanti E non li trovo Dai Quando mi pongo un obiettivo Di solito lo porto a termine Abbiamo abbastanza carbone Secondo voi Credite No tre stack Probabilmente non so già più Cosa farmi Lo sto scavando Per forza di inerzia Voglio il diamante Guarda io ve lo giuro La faccio scadere Stavolta Veramente Io scommetto Che appena finisce La tlessidra qua Troviamo i diamanti A vedere Siamo alla fine Siamo veramente alla fine Stavolta non la rigiro Ve lo giuro Che non la rigiro È tutto fatto apposta Raga Tutto interamente Fatto apposta Per fregarmi Ok è finita la tlessidra Adesso però abbiamo un problema Si è rotto il piccone Quando a stepney Si rompe un piccone Cosa fa? Prende Sforna una fornace Insieme al crafting table Ah raga Ma è risaputo Che sotto alle isole deserte Non ci sono diamanti Solo redstone E coal Perché? Facciamo una bella Scorpacciata Stavolta di iron Partiamo Subito dal secchio Che andremo a riempire Istantaneamente E un paio di picconi Già che ci siamo Scarpettine in produzione Metti in saccoccia Ora recuperiamo Anche gli altri materiali E dovremo riuscire Volendo A farci L'armatura Armatura di iron Completata Prendi e metti lì Ne mancano sette E a questo punto Avremo completato Anche i pantaloni E ve lo giuro Scavo così tanto E torno sulla terraferma Una delle domande Più quotate in assoluto Sotto all'altro video Era Che fine ha fatto Quindi la serie principale Di minecraft Eh Eh Adesso mi sorge un gran dubbio Se questa è una nuova serie Principale di minecraft Ha senso continuare L'altra serie principale Di minecraft Scrivetemelo nei commenti Perché sono curioso di saperlo Per quanto riguarda invece La mates in minecraft Molto probabilmente Ma non posso garantirvi nulla Ma posso parlare liberamente All'interno della serie Dell'incoerente E dire tutto ciò che penso Ci sta che faremo Degli episodi speciali In compagnia degli altri Quindi Non più episodi in singolo Ma magari qualcosa di gruppo Che potrebbe essere Anche più interessante Per voi da vedere Presumo Io devo comunque stare attento Alla mia vita Perché ho poco cibo Con me Dobbiamo arrangiarci Con quel che abbiamo L'armatura completa Di iron Iniziamo alla grande Questa stagione Vai così Ve lo garantisco Su quello che volete Finché non troviamo Un diamante Io questo episodio Non lo termino Anzi Vi aggiungerò di più Questo episodio Terminerà esattamente Nel momento in cui Troveremo i diamanti Perché li troveremo La lava è esattamente Sopra di noi Giusto? Giusto Eccoci qua Abbiamo trovato Una mini grottina Sento puzza di diamanti No Per adesso no Affangala Dove sono i miei diamanti Mannaggia La cosa bella Di essere incoerenti Con se stessi Però è che posso Terminare l'episodio Anche senza aver trovato I diamanti È per una soddisfazione Personale Che cercherò i diamanti Ovviamente Ma poi cosa dico Cercherò Troverò Non si mette neanche In dubbio questa cosa Siamo tre piccoli porcellini Siamo tre Fra fellini C'è un'altra pozza di lava Fai la brava Corridoi infiniti Di lava E io non trovo niente Collegherà Da qualche parte Credo eh Presumo Non me ne intendo io Gioco da poco Però arriverà da qualche parte C'è una grotta Bella Ci piace Ti pare che mi dai solamente carbone Ho detto che volevi il carbone Il ferro Ma non significa che mi devi Fai trovare la befana sotto casa Sembra quasi di essere I lavori forzati Servirebbe un minecraft real life Per farvelo capire Presto sul canale Minecraft real life Vai stepni Preparatevi Sarà molto figo Non l'ho ancora pensato eh C'è proprio adesso Mi è venuto in mente Verrà fuori qualcosa di interessante Era qua la pozza di lava E da qualche parte Continuerà Immagino Quindi stiamo attenti Andiamo avanti E ce l'ha mai Wow 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 Sereno Non ci ha pensato due volte Ad esplodersi E in teoria Manco avevo la spada in mano Perché Non mi ricordavo Che gli scavi Fossero così tanto noiosi Senza diamanti Non è divertente Per niente Troppo zero Che bello che è scavare Non mi divertivo così tanto Da un'eternità Non avete un'idea Dove sono i miei diamanti Porca miseria Oro Attenzione Questo è un barlume di speranza In tutti i sensi Avete trovato un materiale diverso Sicuramente Mi fa sperare In positivo Cioè dovrebbero essere C'è anche diamanti Non ci sono Gra casino Arrivo al centro della terra Voglio vedere il nucleo Voglio vedere l'occhio di Sauron No diamante No terzo episodio Chiaro Quindi diamante va trovato Assolutamente Potevo stare zitto E farmi gli affari miei No no Giro la clissida Nel tempo in cui finisce la sabbia Trovo i diamanti Bella mossa Non ci sto neanche impiegando Un'eternità adesso Altro oro Aia Anche altra lava L'acqua sembrerebbe essere Sopra di noi Esattamente Sì Sì Grazie Mi ha ascoltato Minecraft Ve lo giuro Sono contento Come non ero Tanto tempo Tanto tempo C'è la lava Maledizione Ma ci è voluto Veramente così tanto Per trovare i diamanti Messi in croce Quanti ce ne sono Quanti ce ne sono per lo meno Una marea Ditemi che ci sguazzo dentro Questo è il vero tesoro Dei pirati Altro che Poi se mi spiegate per bene Come trovare l'altro Io lo cerco volentieri Ma mi avete detto Accanto alla X Accanto alla X Non c'è sta niente Quanto sotto devo andare Quattro pezzettini di diamante Sono stati un po' tirchi Nei nostri confronti Ma ce li facciamo andare Alla grande Sì Sì così Oh c'è spazio Ma invece sì che c'è spazio Diamanti baby Però Abbiamo un problema adesso Molto probabilmente Ci siamo persi in grotta Quindi sapete cosa vi dico io Sono incoerente Ma non fino a questo punto Cari amici Spero che questo appuntamento Il secondo della nuova serie Della Minecraft vanilla Vi sia piaciuto Siamo riusciti a trovare i diamanti Faglieli vedere Guardateli bellini e succulenti Sì Diamanti a profusione Yes Spero che vi sia piaciuto Se avete delle idee Non esitate a scriverle Di tutti i colori Potete scrivere anche cose strane Assurde e bizzarre Le seguirò Commentate Lasciate un mi piace Iscrivetevi Se ancora l'avete fatto Attivate ovviamente la campanellina Mi raccomando Ci vediamo nei prossimi giorni Nel prossimo episodio Arriviamo Non lo so A 50.000 like Io ragazzi vi saluto È stata una bella fatica Sono stanco Mi sta esplodendo il cervello Ho perdito anche la febbre Qua la sabbia è tutto Buono Ho appena scoperto Che Minecraft Non è infiammabile A caso Ma perché Adesso scusatemi Ma è giunta l'ora di andare Alla prossima